libro nella lunga voce del dizionario treccani della lingua italiana si legge libro sostantivo maschile dal latino liber libri che indicava originariamente la parte interna della corteccia che in certe piante assume aspetto di lamina e che disseccata era usata in età antichissima come materia scrittoria di cui il significato è divenuto poi comune quello che usiamo tutti cioè complesso di fogli della stessa misura stampati o manoscritti o cusciti insieme così da formare un volume fornito di copertina o rilegato usato assolutamente si intende in genere libro a stampa nel dizionario nomenclatore del premoli invece che è una mia grandissima passione è il dizionario analogico della lingua italiana la parola libro è legata sì alle componenti fisiche cioè alle pagine al bordo alla copertina alla costa ma soprattutto è legata agli usi dallo studio alle sottolineature alle censure addirittura un intero paragrafo è dedicato nel premoli alle parti da espungere in caso di violazioni morali d'altronde siamo nel 1902 seguendo l'etimologia si arriva alla botanica dove per libro con significato direttamente tratto da quello originario latino si intende il complesso di elementi istologici diversi che si trova nei fusti nei rami e nelle radici delle piante vascolari il libro è caratterizzato dalla presenza di elementi conduttori vivi cellule e tubi cibrosi insieme con altre cellule in zoologia infine il libro la terza cavità dello stomaco cammina con camerato dei ruminanti caratterizzata come indica il nome da pieghe se per euclide dunque il punto è ciò che non a parti per noi che abbiamo dato i nomi alle cose il libro è tutto ciò che a pagine di qualsiasi materiale esse siano fatte e sul libro in generale abbiamo detto tutto ad altronde così come non ci si innamora delle categorie le bionde le brune i muscolosi quelli con i baffi quelli con gli occhiali quelli che vestono sempre di nero ma di singoli esseri umani così non si può parlare con un ardore del libro in generale si può parlare di un libro o di qualche libro i libri da quando li ho tenuti in mano e ancora prima da quando li ho visti a casa mia sono stati una presenza costante io non riesco a pensare alle case senza i libri non riesco a pensare la vita senza i libri non tutti insieme certo uno per uno quelli che ho letto quelli che ancora devo leggere forse in realtà non riesco a pensare di neanche a tutto riesco a pensare una casa è una vita senza libri forse anche in generale però nonostante ne avessi letti altri il primo libro che mi ha fatto intuire che cosa fosse e che cosa sia la letteratura è stato il malavoglia di giovanni verga non so se perché di fronte alla finestra della cucina nella casa dove sono cresciuta ci fosse un albero di nespolo non so se per quell'incipit che comincia con i sassolini che sono da sempre una mia grande passione i brecciolini non so se perché scauri dove sono nata e cresciuta avesse e abbia il mare o perché mio nonno michele con la sua scarna saggezza spesso malinconica mi ricordasse padron toni ecco io tutto questo non lo so ma so che quando maruzza la longa si chiede dopo un naufragio dal quale avevano ripescato un marinaio vivo so che quando maruzza la longa si chiede perché in mezzo a tutta quell'acqua quell'uomo morisse di sete io insieme a lei me lo sono chiesta e ho provato angoscia la letteratura arriva nella mia vita non con le favole e non con i libri di avventure generi tipi che entrambi amo e frequento assai ma arriva con l'angoscia con lo smarrimento con l'idea che ci siano domande alle quali è impossibile rispondere se non con l'immaginazione e talvolta per quell'immaginazione ci vuole un cervello e un cuore che a ben vedere è una rete di cuori e cervelli qualcosa di collettivo e risalente una rete fatta di memoria senza memoria del passato anche dal punto di vista delle neuroscienze non c'è non abbiamo l'immaginazione del futuro così oggi ho pensato di parlare di un libro né il mio libro preferito né quello che rileggo più spesso ma un libro tra i tanti sui quali ho scritto e studiato un libro che mi ha accompagnato e ha corroborato l'idea come mi diceva sempre cesare de michelis che i saggi ti spiegano le cose ma i romanzi te le fanno capire ecco io mi fido dei romanzi per descrivere e analizzare la vita degli esseri umani in certi periodi storici e dunque in tutti i periodi storici motivo per cui come faceva per esempio virginia wolf io leggo sempre i miei contemporanei convinta che se si è incapaci o se si smette di analizzare i propri contemporanei si è meno abili e abituati ad analizzare e leggere i classici che comunque sono stati i contemporanei di qualcuno ecco il libro che è tutto ciò che è a pagine come abbiamo detto da quando è stato inventato in qua anche quando le pagine come succede adesso non hanno carta e sono fogli elettronici fogli immateriali è o continua a sembrarmi il libro una forma della memoria e dell'immaginazione umana ho letto libri per capire scrivo libri per capire non sempre riesco in entrambe le attività ma d'altronde capire come molte cose umane come tutto non è uno stato che si raggiunge è uno stato che si esercita è insomma un processo e dunque tra questi processi ecco un mio processo di lettura stare sui libri stare con i libri stare nei libri mi sono sempre chiesta se il libro sia quello che in linguistica si chiama iperonimo aggettivo e sostantivo maschile che indica un'unità lessicale di significato più generico ed esteso rispetto a una o più altre unità lessicali in esse incluse per esempio fiore e iperonimo non si parla di iperonimi questo potrebbe essere un'indicazione narrativa culturale e politica non si parla di iperonimi dunque eccoci qui non il libro ma un libro e prima di tutto una premessa ho smesso di studiare storia alla fine del secondo anno della scuola superiore per una simpatia eccessiva verso la professoressa che l'aveva insegnata fino a quel punto e perché non ho mai sopportato la caduta di costantinopoli anzi il presagio della caduta perché costantinopoli sarebbe caduta circa mille anni più tardi a ogni modo le mie conoscenze storiche anche piuttosto minute e precise e addirittura con alcune ipotesi interpretative si fermano al concilio di nicea del 325 nel quale tra le altre cose che non ricordo non so più o non ho mai saputo si è scritto il testo del credo dove si dice con una bellissima forma in italiano che dio è creatore di tutte le cose visibili e invisibili dunque lo siamo anche noi creatori di cose visibili e invisibili questa breve premessa per dire che le leggi razziali così come napoleone la prima e la seconda guerra mondiale il medioevo e il rinascimento i padri pellegrini e il canale di suez per me sono collocati in maniera vaga a partire da un punto successivo al concilio di nicea con un'eccezione per la rivoluzione francese grazie alle di oscar l'unica disciplina che in fondo ha funzionato da orologio per i grandi avvenimenti storici è stata la storia dell'arte perché in effetti la professoressa di disegno e storia dell'arte al liceo che è rimasta nella mia classe per cinque anni mi era molto simpatica e a parte questo era una donna molto preparata dico era perché è morta due anni fa e dunque pace all'anima tua rosita si chiamava vittoria simione ma tutti la chiamavamo rosita non ho mai capito se per via di quei capelli color minio o per il duetto alfa romeo rosso decapottabile lei d'altronde alla domanda rispondeva sempre solo alzando le spalle e forse va bene così le leggi razziali dunque sarebbero rimaste qualcosa tra la montagna incantata di thomas mann e se questo è un uomo di primo levi passando per gioventù senza dio di odon von orvat breve romanzo che avevo letto abbastanza precocemente e per caso probabilmente grazie al titolo che mi faceva pensare a qualcosa di maledetto e rivoluzionario e plausibilmente essendo gli anni 80 del 900 crestato di colori lisergici e droga una specie di cristiana f di herman enrique ma più punk non era questo dunque le leggi razziali si collocavano questa volta non grazie a rosita ma alle letture tra il 1924 anno della pubblicazione di ans castor e il 1937 anno di pubblicazione di gioventù senza dio e il 1945 47 anno di redazione di se questo è un uomo di primo levi dunque grazie alla letteratura possedevo premesse e conseguenze alle leggi razziali ans castor se fosse andato in guerra avrebbe combattuto nell'esercito tedesco insieme a tanti suoi coetanei e forse sarebbe morto come molti suoi coetanei nella seconda guerra mondiale credo sia stato questo il meccanismo per il quale non ho mai sentito l'esigenza di prendere in mano un libro di storia e addirittura con grande sdegno di mio padre e mia madre di non comprare nemmeno i testi scolastici di storia in adozione al quarto e quinto anno di liceo al terzo anno mamma amante non solo della storia ma dei testi di storia me lo aveva comprato e io senza di senza dirglielo me l'ero venduto a tre quarti del prezzo essendo il libro nuovo così io ci avevo guadagnato tre quarti e danilo che aveva ricevuto dalla madre l'intera somma un quarto del prezzo e credo entrambi fossimo molto soddisfatti ovviamente quando mia madre aveva scoperto la male fatta mi ero trovata avendo dovuto rimettere alla libreria l'intera somma per un altro libro nuovo con meno un quarto dalla somma della somma che avevo in tasca e questo è stato di certo il momento in cui ho capito che il patrimonio è definito dai crediti ma anche dai debiti di una persona motivo per cui alla fine anche durante gli anni di università le frazioni non mi sono mai piaciute mi ricordavano qualcosa che avevo perduto e mai più riconquistato altro che paradiso infatti il paradiso se c'è non è un numero fratto è un indivisibile questo per dire che se io non fossi entrata come professoressa di matematica nel liceo marconi di parma le leggi razziali sarebbero rimaste su quella linea del tempo segnata dalla letteratura che mi è sempre sembrata ma forse lo dico adesso che non posso più recuperare la storia che mi è sempre sembrata più affidabile della storia stessa il liceo marconi è un vecchio e prestigioso liceo parmigiano nell'articolo numero 60 della riforma gentile si legge che il liceo ha il compito di sviluppare e approfondire l'istruzione dei giovani che aspirano agli studi universitari nelle facoltà di scienze e di medicina e di chirurgia con particolare riguardo alla cultura scientifica dunque il liceo marconi nasce con la riforma gentile insieme ad altri reggi licei italiani nel maggio del 1923 io arrivo molti anni e molte glorie dopo tuttavia a un certo punto dell'anno scolastico 2007 2008 mi ero imbattuta il come il perché non lo so più il dove doveva invece essere giù nell'archivio insieme ai compiti in classe del primo quadrimestre della seconda a mi ero imbattuta in un registro dell'anno scolastico 1939 40 nel quale alcuni nomi di studenti erano scritti in rosso avevo pensato immediatamente a una frase quasi di inizio del giardino dei finzi contini che ho sempre tenuto a memoria e quel 5 rosso unico numero in inchiostro rosso di una lunga filza di numeri neri mi si impresse nell'anima con la violenza e l'impeto di un marchio infuocato per amore di esattezza la frase esatta è e il 5 rosso unico numero in inchiostro rosso di una lunga filza di numeri in inchiostro nero mi si impresse nell'anima con la violenza e col bruciore di un marchio infuocato la frase si riferisce al narratore protagonista del romanzo che entra nell'atrio di un risalente liceo ferrarese dove è studente e scopre di essere stato rimandato io mi trovavo in una scuola non nell'atrio ma nelle segrete una specie di soffitta della storia infinita film e di certo anche il liceo bassaniano seppure classico faceva parte dei reggi licei tutte queste somiglianze mi avevano fatto indovinare che quei nomi rosso erano nomi di studenti ebrei adesso ci sono due circostanze che sottolineano come la memoria non sia altro che un sentimento perché non solo la frase del 5 rosso che ancora ricordo a memoria non è nelle prime pagine di finzi contini e perché dovrebbe visto che il romanzo comincia nel cimitero di cerveteri ma quando un paio di anni fa in un caso in occasione di una conferenza su matematica e letteratura nel liceo dove avevo insegnato ho chiesto di rivedere i registri volevo forse segnare i nomi e seguire le storie di quei nomi in rosso di quei registri che ero certa di aver visto come gli occhi dei registri non c'era più traccia nella frase dei finzi contini a memoria nelle prime pagine nei registri che io sono certa di aver visto come i numeri con i nomi in rosso il giardino dei finzi contini che per me è un romanzo con giardino romanzo con giardino dunque o di tutti i brani dove si legge leggi razziali nei finzi contini di giorgio bassani 1 si era nel 38 a circa due mesi da quando erano state promulgate le leggi razziali ricordo bene un pomeriggio verso la fine di ottobre pochi minuti dopo essersi alzati da tavola avevo ricevuto una telefonata di alberto finzi contini era vero o no mi aveva chiesto subito trascurando qualsiasi preambolo notare che non avevamo avuto occasione di scambiare una sola parola in più di cinque anni era vero o no che io e tutti gli altri con lettere firmate dal vicepresidente segretario del circolo del tennis eleonora d'este marchese barbicinti eravamo stati dimessi in blocco dal club cacciati via insomma le leggi razziali subito per il narratore sono una fola una voce una voce che arriva via cavo non ci crede non ci crederà fino a quando dal marchese barbicinti non giungerà una lettera firmata che invita gli iscritti di credo ebraico a non presentarsi più a giocare a tennis senza le leggi razziali il romanzo dei finzi contini non sarebbe mai stato scritto o forse sì ma non col titolo che tutti conosciamo perché il narratore non sarebbe mai stato invitato a giocare a tennis nel campo privato oltre le mura di cinta di casa finzi contini e non avrebbe mai avuto l'occasione di camminare per un lungo tempo nei vialetti nella rimessa al fine nelle stanze dei finzi contini e addirittura di preparare la tesi nella loro biblioteca perché seppure tutto comincia con un campo da tennis poco a poco come in un gioco nel quale uno dei partecipanti mangi i territori degli altri come in un risico il narratore i suoi amici ebrei non possono andare nemmeno più in biblioteca delle leggi razziali finzi contini nemmeno si accorgono perché i finzi contini conducono già vite appartate nel mondo dei finzi contini l'unica cosa che davvero manca è qualche pezzo di arredo umano che grazie alle leggi razziali viene recapitato all'interno delle mura nel loro mondo protetto e ovattato silenzioso tanto che è possibile sentire i tintini dei cristalli e degli argenti non c'è scritto ma io li ricordo ancora con nettezza la verità è che a furia di far collezione di cose di piante di tutto si finisce a poco a poco di volerlo fare anche con le persone ecco i due più assidui frequentatori o quelli che rimangono sono il narratore sia ebreo ma di estrazione medio borghese con un padre medico che però non esercita più gestisce piccole proprietà terriere e malnate un giovane chimico milanese impiegato alla montecatini nel settore delle plastiche momentaneamente distanza a ferrara comunista ammiratore della maestra clelia trotti protagonista di un omonimo racconto di bassani e dei cui genitori nulla sappiamo se non che vivono in un piccolo appartamento nella zona del duomo e che probabilmente sono operai o lo sono stati dell'età e dei genitori dei protagonisti del romanzo si sa poco ma di certo si sa che il padre di alberto e micol finzi contini il professore ermanno è il più vecchio di tutti i finzi contini oltre a essere ricchi e latifondisti e colti sono anche aristocratici la ricchezza dei finzi contini nonostante la parentela con i baroni artom di treviso viene da moisè finzi contini bisdonno di micol e alberto l'uomo che oltre a far costruire la tomba di famiglia costruisce altri palazzi di dubbio gusto per tutta ferrara i finzi contini hanno tutto da un certo punto in poi anche il gusto eppure all'inizio del romanzo sappiamo che della probabilmente volgare tomba di famiglia del cimitero ebraico di ferrara sarà tumulato solo alberto morto precocemente in carenza d'ossigeno come la storia stessa di quegli anni gli altri finzi contini dopo una sosta nel campo di fossoli moriranno in germania 2 ma perché erano contenti di quello che stava capitando perché a loro alti come erano sempre stati contrari al fascismo va bene ma soprattutto alti le leggi razziali facevano in fondo piacere e almeno fossero stati dei buoni sionisti allora dato che qua in italia ferrara ci si erano sempre trovati talmente a disagio talmente in prestito almeno avessero approfittato della situazione per trasferirsi una buona volta in erez invece no più che tirar fuori ogni tanto un po di soldi per erez niente di straordinario in ogni caso di più non avevano mai voluto fare loro le somme vere avevano sempre preferito spenderle in aristocratiche futilità come quando nel 33 per trovare un elal o un parroquete degni di figurare nella loro personale sinagoga autentici arredi sefarditi per carità e che non fossero portoghesi o catalani o provenzali bensì spagnoli e di misura adatta si erano spinti in macchina con dietro un carnera niente meno che a cherasco in provincia di cuneo un paese che fino al 1910 o giù di lì era stato sede di una piccola comunità ormai estinta e dove soltanto il cimitero era rimasto funzionante per via di alcune famiglie di torino originarie del luogo dei benedetti momigliano terracini eccetera continuavano a seppellire lì i loro morti ovviamente i finzi contini non erano contenti affatto delle leggi razziali probabilmente le avevano sottovalutate quasi fossero una tassa che non sarebbe stato troppo oneroso pagare in fondo che micollo non prenda la lode alla tesi quando si laurea a venezia perché nella commissione c'è un professore fascista il professore di tedesco è un effetto marginale minimo in fondo che alberto decida di non dare la tesi e si rinchiuda nella sua stanza ad ascoltare musica e a rimirare i mobili che si è fatti fare su modelli di altri mobili visti su chissà quali riviste è secondario rispetto al fatto che alberto sta morendo ma non come tutti di più in fondo il professore ermanno riesce addirittura a far arrivare due camion di terra rossa per allargare il fuori del campo da tennis perché i figli e loro amici giochino con maggiore agio a causa delle leggi razziali la tomba di famiglia rimane vuota inutilizzata inutile e questo stia a monito di tutti per quanto riguarda le tombe di famiglia anche se considerato quanto è difficile trovare un loculo quando ti serve bisognerebbe riconsiderarne l'opportunità per esempio quando è morto mio nonno luigi mia nonna tina oltre a comprare il loculo per nonno ne ha subito prenotato uno per lei accanto a nonno bisogna dire che mia nonna tina non è mai stata scaramantica io un loculo non lo comprerei mai figuriamoci poi decidere di investire in una cappella di famiglia lei mi diceva spesso che non c'entrava la scaramanzia ricordo bene che mentre facevamo questo discorso nonna aveva già più di 80 anni e si reggeva assai poco bene sulle gambe tant'è che aveva cominciato a sedersi sulla sedia a rotelle dalla quale poi non si è mai più alzata ma senza drammi semplicemente poiché la priorità era muoversi liberamente per casa invece dei piedi utilizzava le rotelle in effetti la scaramanzia non è il contrario della razionalità è il contrario della praticità dunque mentre io seduta su una sedia normale e lei seduta su una sedia a rotelle parlavamo di loculi e lei si diceva assai soddisfatta di averne già uno perché in vita che uno cammina è brutto non avere casa figura di da morto che non cammini quanto è brutto non avere dove stare e non poter cercare riparo mentre parlavamo di questo e di quell'altro e l'altro era la morte repentina della signora albina ottoagenaria detta alle punture nel quartiere alle spalle di nonna avevo seguì avevo improvvisamente notato un muro di pannoloni e traverse al che avevo decludito mia nonna si era voltata sorridente verso il muro dovatta e plastica aveva sentenziato mi serviranno prima o poi e intanto silvio conad ce li aveva in sconto così li ho comprati quando non è morta il suo loculo a destra di quello di nonno la aspettava secondo me si era voluta mettere lì per sicurezza perché con tutte le corna pace all'anima sua che gli aveva messo nonno voleva essere certa di averlo per sé almeno per l'eternità abbiamo poi scoperto io ho scoperto che nonna aveva comprato anche quello a sinistra adesso però visto che nonno luigi passati più di 20 anni è stato ricomposto e messo in una scatola nello stesso loculo di nonna abbiamo ancora due loculi e questa è di certo una forma condominiale o di villetta schiera di cappella di famiglia mio padre d'altronde senza aver mai fatto il palazzinaro come moisè finzi contini ha scelto per la tomba di mia nonna e mio nonno un marmo rosa così nella galleria del colombario all'imbrunire nonno e nonna hanno lo stesso colore del tramonto bravo papà molto sobrio 3 l'adriana senza dubbio ci stava una sera anzi nella utte lei li aveva visti mezzi stesi sul divano che si baciavano a tutt'andare ma che fosse tipo da poter tenere in piedi una cosa talmente impegnativa a dispetto delle leggi razziali e dei parenti di lui e di lei questo era un altro discorso non avrebbe avuto un inverno facile bruno no davvero e mica che l'adriana fosse una cattiva ragazza per carità alta quasi quanto bruno bionda con quella splendida pelle alla carol lombar che aveva in altri momenti sarebbe magari stata proprio la ragazza che ci voleva per bruno al quale si vede piaceva il genere virgolettato molto ariano come tutti mi sono innamorata delle bionde e se non innamorata come tutti ho sempre guardato le bionde e le guardo più del biondo mi sono innamorata e ho guardato gli occhi chiari tuttavia di adriana trentin non ricordo molto neppure dopo la rilettura se non che era brava nel doppio misto e che avrebbe vinto un certo torneo con certi campioni insieme al suo bruno se non fossero stati interrotti con una scusa qualsiasi a causa delle leggi razziali al circolo del tennis micol non può prendere la lode alla tesi e adriana e bruno non possono vincere il torneo dunque le leggi razziali danno il via alla vicenda del romanzo e poi piano piano interrompono tutte le azioni impediscono alle cose di giungere al loro fine l'unica fine nota l'unica fine possibile dopo le leggi razziali e che gli ebrei ferraresi scappino o muoiano come tutti ricordo la scena del film con la correzione dell'accento dominique sandà scende dalla scala della magna domus un uomo in grisaglia pronuncia il suo nome con l'accento sbagliato e lei dritta come un fuso bionda come loro azzurra come il cielo di giotto lo corregge impassibile l'adriana santini invece amoreggia tutti gli altri lo capiscono lo spiano lo vedono dei morosi di micol sa a un certo punto il narratore perché lei glielo dice micol risponde con la praticità con la quale avrebbe risposto mia nonna tina che non era bionda ma aveva occhi cerule i bellissimi che aveva avuto qualche flirt ma niente di importante grandi passeggiate al lido di venezia grandi passeggiate al lido mano nella mano il narratore strabuzza ma micol interrompe il bolero col quale parla smette di aggiungere particolari di quelle passeggiate e gli dice che non possono fidanzarsi perché il narratore è per lei come un fratello tant'è che quando poche pagine prima lei era tornata laureata pur senza lode da venezia ed era andata ad accoglierlo nel giardino buio e lui aveva immaginato tutto perfino il crocchiare della ghiaia perfino il vociare in casa e le luci nel giardino ma non come l'avrebbe baciata non aveva immaginato questo e poi le chiede scusa scusa per averla baciata commettendo quell'errore fatale che tutti abbiamo commesso nel tentativo di essere rassicurati rispetto al nostro senso dell'opportunità e di essere incoraggiati a ripeterlo perché non è stato affatto sgradevole ecco micol invece risponde no non scusarti sono io che non sarei dovuta a venirti incontro al buio dunque micol è cosciente dei sentimenti del narratore e non li nega ma decide che non possono essere pronunciati anni dopo flerrieghi scriverà le cose che non possono essere dette allora possono essere anche dimenticate il narratore tuttavia non dimentica non si scoraggia è giovane non accetta che lei non lo voglia come fidanzato come uomo non accetta che lei non lo ami e così la rimprovera ma non come un uomo come un ragazzo le fa delle scenate la invita in passeggiate solitarie nel parco della casa e poi tenta di baciarla la rimprovera con una gelosia ossessiva e paranoica che somiglia di certo a quella più maestosa di swan per odette ma soprattutto a quelle similari o miserabili delle quali ciascuno di noi è stato preda 4 ciò di cui mi discorreva perotti mentre aspettava che avessi finito di sorbire il caffè era semmai dell'andamento della casa a suo parere gravemente compromesso dall'assenza troppo prolungata della signorina che va bene certo aveva da diventare professoressa per quanto e tale per quanto accompagnato da una smorfia dubitativa poteva alludere a molte cose alla nessuna necessità che i padroni beati loro avevano di guadagnarsi la vita come anche alle leggi razziali che in ogni caso avrebbero reso i nostri diplomi di la i nostri diplomi di laurea dei puri pezzi di carta privi della minima utilità pratica ma che però qualche scappata dato che senza di lei la casa stava andando rapidamente a ramengo qualche piccola scappata magari una settimana sia una no avrebbe pure dovuto farla eppure la casa la magna domus come viene chiamata non è salubre è stata costruita nel punto sbagliato è infossata non prende tutto il sole e l'aria che potrebbe prendere c'è qualcosa se non di oscuro di umido nella casa di fin si continui la descrizione che bassani ne fa somiglia incredibilmente a quella dell'altra grande maggiore insalubre della letteratura europea ci somiglia quasi 20 anni più tardi perché la prima edizione del giardino dei finzi contini viene pubblicata all'inizio degli anni 60 dai naudi mentre il romanzo nel quale si trova point soul viene pubblicato nonostante il divieto dell'autrice nel luglio del 1941 il romanzo è tra un atto e l'altro di virginia wolf anche in tra un atto e l'altro c'è un circolo del tennis dove isa si sente attratta da mister haynes e ci sono le scarpe da tennis che indossa giles oliver marito di isa e che sono protagoniste assolute di una delle frasi più splatter della narrativa di virginia wolf vado a leggere la traduzione mia del 2015 nottetempo là acquattato nell'erba acciambellato in un anello verde oliva c'era un serpente morto no soffocava con un rospo in bocca il serpente non riusciva a inghiottire il rospo non riusciva a morire uno spasmo gli contrasse le spire il sangue colò era un parto al contrario un'inversione orrenda così sollevando il piede gli aveva pestati l'ammasso si era schiacciato era gli era scivolato sotto le suole la tela bianca delle scarpe da tennis era macchiata di sangue e appiccicosa ma era stato un gesto il gesto lo aveva rilassato si diresse al granaio col sangue sulle scarpe virginia wolf nel granaio c'è una festa che già non sta andando troppo bene siamo nel 1939 in una casa di campagna dove ogni anno si tiene uno spettacolo in costume nel quale si evoca la storia d'inghilterra l'allestimento e la regia sono affidati a miss latrobe una donna della quale sappiamo prima dall'aspetto e poi da alcune vicende personali appena accettate che è una donna omosessuale così come è omosessuale il giovanotto che compare non invitato a pranzo con mrs manresa una donna piuttosto appariscente forse volgarotta seduttiva e procace e che risponde al nome di william dodge tra un atto e l'altro e dunque un romanzo la cui ambientazione è contemporanea a quella dei fin si continui è un altro romanzo con giardino e nel quale viene evidenziata una diversità tra alcuni personaggi e tutti gli altri la rappresentazione viene sospesa in tra un atto e l'altro non per volontà della regista ma perché tutti attori e spettatori vengono distolti dal rombo degli aerei militari che sorvolano la campagna inglese il maggiordomo e le cameriere chiamano il gatto i fantasmi anzi il fantasma che si dice orbit intorno allo stagno con nomi diversi da quelli utilizzati dai padroni per esempio sono diversi nomi dei gatti e per quanto non si dica sono certa che anche quello del cane e il fantasma della donna negata per amore dai padroni viene minimizzata per una credenza perché pensano sia negata solo una pecora come la mia professoressa di storia dell'arte rosita di cui dicevo prima che si chiamava per gli estranei vittoria esattamente così mi sono sempre domandata se anche perotti il factotum di casa fin si continui del quale nulla sappiamo tranne che sia pure il curatore della memoria dei fasti passati della famiglia chissà se anche perotti aveva un nome diverso per ior il cane di micol enorme e mansueto come il cane di mister oliver oppure no 5 e che soddisfazione che pia soddisfazione in tutti quando saremmo apparsi assieme a scuola italiana il prossimo kippur un po smonti in viso per colpa del digiuno ma belli ciò nonostante degnissimamente assortiti non sarebbe certo mancato chi a vederci avrebbe benedetto le leggi razziali proclamando che dinanzi alla realtà di una così bella unione restava una sola cosa da dire tutto il male non viene per nuocere il giardino dei fin si continua un romanzo d'amore e senza le leggi razziali questo amore non ci sarebbe stato infatti in tempo di pace l'unica differenza di razza è una differenza di ceto già che come ha scritto marx tutti noi soggiacciamo ai limiti del nostro cervello sociale e dunque in tempo di pace il medio borghese alberto non avrebbe nemmeno pensato di corteggiare e addirittura fidanzarsi come viene detto nel romanzo e addirittura di convolare a nozze come abbiamo appena letto con l'aristocratica micol fin si continui però come sempre la guerra è l'occasione per le classi sociali che non avrebbero potuto nemmeno pensare di avere accesso al grand tour di fare un grand tour solo che non è un giro in esterna ma in interni e infatti alberto con o senza micol più senza per vero frequenta le stanze di casa fin si continui prima solo quelle di alberto poi viene ammesso al desco poi addirittura riuscirà a prendere l'ascensore che ascende alla stanza di micol il principe in questo romanzo non scala la torre ci arriva in ascensore e la torre non è spoglia la principessa non è in difficoltà e non vuole nemmeno essere salvata la principessa sta con la schiena su due coscini legge baudelaire legge i romanzi francesi contemporanei soprattutto resiste alle insistenti effusioni del narratore che con un'arditezza della quale non si sarebbe creduto capace monta sul letto e continua a strusciare il viso sul viso di micol nel tentativo sempre più goffo di incastrare le sue labbra in quelle di lei micol è immobile come una statua e immagino altrettanto fredda 6 come stava la mamma domandò non dimenticassi per favore di salutarla dalla parte dell'edvige ledvige santini che la mamma avrebbe capito di sicuro accennò alla guerra forse imminente alluse con un sospiro e scuotendo il capo alle leggi razziali aggiunse che essendo rimasta da qualche giorno priva dell'ancella aveva da pensare lei a tutto cucina compresa dopodiché chiesto permesso mi lasciò solo edvige santini proprietaria della monocamera dove vive giampiero malnati l'altro amico di alberto finzi contini e dove tenta di rifugiarsi il narratore stesso quando smette di frequentare il giardino è una donna a cui piace chiacchierare è sposata con un giudice siciliano per lei le leggi razziali come d'altronde per la famiglia del narratore hanno significato prima di tutto perdere la donna di servizio a casa del narratore la cameriera è stata sostituita dalla signora cohen una vecchia donna ebrea che vive nell'ospizio ebraico non si capisce nemmeno in questo punto quanti anni abbia la signora cohen mi sono sempre chiesta se questa vaghezza sull'età anche i protagonisti a loro apparire vengono definiti adolescenti di tarda primavera vago ma almeno molto evocativo se questo a vaghezza sull'età fosse un modo sommesso ma efficace di bassani per dire che la guerra agisce su tutti allo stesso modo indipendentemente dall'età e dal censo o semplicemente tranne che di micol a bassani non importasse niente di niente e a me cosa c'è nel romanzo oltre micol 7 alberto morì di linfogranuloma maligno prima degli altri nel 42 dopo un'agonia lunghissima a cui nonostante il solco profondo scavato nella cittadinanza dalle leggi razziali si interessò da lontano tutta ferrara tutti noi abbiamo avuto un giardino dei finzi continui al quale abbiamo aspirato al quale talvolta o per un periodo siamo stati ammessi nel quale forse siamo rimasti c'è chi ci andava a giocare a tennis chi a commodore 64 chi a boccette chi ci andava per fare i compiti per il giorno dopo chi ci va a giocare alla playstation tutti noi siamo stati i finzi continui di qualcun altro qualcuno è venuto da noi a giocare a tennis al commodore 64 al biliardino a fare dei video per tiktok amici i cui genitori e le cui stanze abbiamo desiderato amici che hanno desiderato i nostri genitori e le nostre stanze come i finzi continui non abbiamo visto le leggi razziali in qualsiasi declinazioni esse siano affiorate come i finzi continui abbiamo pensato o sperato o deciso follemente che non ci avrebbe riguardato in virtù del principio di chissà quale diversità della nostra diversità che significa sempre al fondo superiorità per questo bisogna leggere i libri per questo il libro perché si scopre che tutti siamo superiori e dunque tutti siamo uguali e dunque tutti siamo miserabili finzi continui aristocratici e perdenti allo stesso modo grazie 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 grazie